Sto girando per verificare come ci stiamo comportando e devo dire che non sono ancora soddisfatto. Non riesco ad esserlo, mi avete anche obbligato a transennare le panchine, adesso stiamo iniziando il transennamento di tutte le panchine, di tutte le piazze del territorio. A Bitonto i contagiati salgono a numero 6 persone, 4 sono i dati ufficiali, 2 sono persone che si sono volontariamente dichiarate positive al tampone attraverso i propri cari che hanno pubblicato questa dichiarazione su Facebook. Se fosse vera ma non è confermata ufficialmente la notizia di due esponenti di forze dell'ordine, anche essi esposti al contagio, che non mi meraviglia perché gli operatori sanitari, gli operatori delle forze di sicurezza, gli agenti di polizia municipale che voi ci obbligate ad utilizzare anche per lo straordinario, per fare da babysitter ad ogni cittadino che si comporta male, sono tutti esposti. Vedendo il bollettino ufficiale della regione Puglia della protezione civile, Bitonto è assolutamente nella media degli altri comuni, ma ripeto che queste statistiche non servono assolutamente a nulla perché i dati che ci vengono offerti, i dati ufficiali che ci vengono offerti potrebbero essere tranquillamente ribaltati da una situazione reale che non possiamo conoscere per la questione asintomatici. Non è vero che il momento peggiore ce lo siamo lasciato alle spalle, il momento peggiore lo stiamo vivendo adesso e ci accorgeremo dei risultati di tutto quello che stiamo facendo la settimana prossima, quando cominceremo a vedere i dati dell'ondata peggiore. Prepariamoci a una Pasqua molto complessa e molto difficile, prepariamoci anche al fatto che le strutture pubbliche che non potranno essere più efficienti come lo sono adesso, ma non potrebbero avere per i più negativi il livello di efficienza attuale, perché più obblighiamo le persone che ci vogliono bene e che fanno assistenza a noi ad esporsi sulla strada, più quelle persone è probabile che poi verranno meno perché dovranno restare a casa, perché contagiate con sintomi lievi, oppure addirittura in clinica o in ospedale perché contagiati in modo assolutamente grave, con sintomi assolutamente gravi. In più prepariamoci anche che potrebbe collassare la struttura ospedaliera qualora una buona parte dei operatori sanitari prende anche esse il contagio e quindi giustamente poi devono restare a casa pure loro.